Raccogliere e lanciare nuove idee imprenditoriali da insediare presso l'incubatore d'impresa Startup Novi Ligure. Premiando così il talento, le idee, l'impegno e la progettualità in un momento in cui la congiuntura economica stenta ancora a sorridere mostrando ancora larghe sacche di sofferenza. Il Comune Novese infatti in collaborazione con l'associazione Reso Interprond Piemonte e l'agenzia di sviluppo del territorio Lange Monferrato Roero sostiene sul suo territorio la creazione di una nuova impresa e di nuovi posti di lavoro promuovendo un bando che scadrà il 31 ottobre 2016. La finalità di Novi Startup è quella di facilitare la nascita e lo sviluppo di startup innovative sostenendo lo sviluppo professionale di giovani neo imprenditori e lavoratori autonomi per rafforzare la rete imprenditoriale locale, sviluppare la competitività e l'attrattività del territorio, valorizzare i giovani talenti nei loro percorsi di crescita e portare alla creazione di nuovi posti di lavoro. Il bando è volta alla selezione e al supporto formativo di sei imprese o aspiranti imprenditori da insediare nell'incubatore non tecnologico di imprese giovanili. L'incubatore Startup Novi Ligure si rivolge ai giovani con un'età tra i 18 e 35 anni che hanno da poco avviato o sono in procinto di avviare un'attività di impresa in un settore non tecnologico che si caratterizza per un approccio comunque innovativo, creativo e di un valore aggiunto in riferimento alle vocazioni del territorio del Novese. A titolo esemplificativo i settori a cui si rivolge il bando sono l'enogastronomia e i prodotti tipici, l'industria agroalimentare, il turismo sostenibile, la cultura, il benessere, la green economy, il welfare locale e della valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali. Il bando è rivolto a soggetti che selezionati da un'apposita commissione secondo il criterio dell'idea maggiormente innovativa e della fattibilità si impegnano ad arrivita un'impresa la cui sede operativa si collocherà presso il comune di Novi.